Buondi, due cose. Primo, ieri avete visto Elper, avete commentato, bravi, adesso ci rivediamo giovedì alle 23.30. Seconda cosa, questo nuovo costume di Mefui, che mi ha mandato Belen, mi piace particolarmente, non ho capito se mi ingrasso oppure no, ma pare di no in realtà, pare di no, è un po' sgambato dietro, però forse è qua da mettere le coppe, non lo so ragazzi, però il colore è bellissimo e il modello è stupendo e quindi lo metto, mio marito ha detto, ah, ti sto bene.